Ciò che è veramente innovativa è che è stato fatto per la prima volta in Toscana e fra i primi centri a livello nazionale in un ospedale che è privo di cardiochirurgia e quindi sono gli albori di una nuova era. È stato eseguito per la prima volta all'ospedale San Donato di Arezzo un intervento di sostituzione valvoelale aortica per via per cutanea, un'importante opzione terapeutica per i pazienti più fragili. Significa utilizzare un gesto per il paziente molto molto più semplice in anestesia locale o con leggera sedazione. L'intervento su un paziente di 88 anni si è svolto nell'ambito di uno studio clinico multicentrico coordinato dall'Università di Ferrara e per la Toscana dalla cardiologia interventistica del Policlinico Le Scotte. È possibile andare ad inserire uno stent, cioè un anello metallico dentro una valvola biologica simile a quella valvola che si usa in un intervento chirurgico attraverso un approccio transcutaneo, quindi entrando come si fa con un'angioplastica normale e si va ad aprire questa protesi all'interno della valvola calcifica chiusa. Il momento chiave dell'intervento dove si osserva la protesi valvolare che viene gonfiata attraverso un pallone nell'anello aortico. Il paziente già dalle prime ore post intervento ha potuto spontaneamente alimentarsi e già da questa mattina autonomamente si è alzato, si è immobilitato e quindi in pochi giorni di degenza potrà tornare a casa alla sua normale attività quotidiana. Un'ulteriore opportunità terapeutica senza spostarsi nei centri con cardio e chirurgia dove spesso vi sono lunghe liste d'attesa. Quindi la possibilità di aprire a centri che hanno le competenze specifiche, che hanno tutto un background di tipo culturale e tecnologico che consente di fare questi interventi, consente ovviamente di estendere e anche dal punto di vista di accessibilità e di equità alle cure consente di estendere questo intervento ad una popolazione molto più ampia.